Grazie a tutti. 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 Puoi scommettere che dormi qualche notte su divano te? Quella è casa mia, faccio come voglio. E a dire il vero, avevo ragione. Esatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lui non mi ascolta. Grazie a tutti. La vedo confuso. Ma io vi faccio la domanda. Se è proprio la vuoi. Se è proprio la vuoi. Va bene. Sei pronto? No. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. No. Grazie a tutti.